Nel corso della mattinata in provincia di Napoli, Benevento Eterni, militari del comando provinciale di Napoli, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di sei indagati ritenuti responsabili di associazioni di tipo mafioso. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza degli indagati al clan Puccinelli, operante del rione Traiano, nell'area occidentale della città di Napoli, sotto la sfera di influenza del clan Licciardi, famiglia aderente allo storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. Il quadro emerso dalle indagini ha evidenziato la coesistenza non armata sul territorio del rione Traiano di due clan che si spartiscono i proventi delle violenti piazze di spaccio di sostanze stupefacenti ivi esistenti. Il clan Puccinelli è gemone nella parte alta ed il clan Cutolo, radicato nella zona della 44, nella parte bassa del rione Traiano. Il complesso probatorio acquisito ha permesso di raccogliere gravi indizi in ordine alle dinamiche criminali che nel tempo hanno regolato le condotte del sodalizio camorristico dei Puccinelli, con l'attribuzione di specifici ruoli agli affiliati nonché le modalità di gestione della Cassa Comune per l'acquisto di armi e mezzi di trasporto necessari alle attività illecite del clan e per il mantenimento dei familiari degli affiliati detenuti attraverso il pagamento delle retribuzioni.